Il safari è stato incredibile. Hai visto i leoni, i ghepardi e altri animali selvaggi. Non vedi l'ora di mostrare le foto ai tuoi amici. Ma all'improvviso, la terra inizia a tremare. Il vuoto lontano si fa sempre più forte. Un elefante spunta da dietro gli alberi e barrisce. Ha l'aria inferocita e sta per attaccare. Conoscerai già questi animali giganti chiamati elefanti. Oggi sono rimasti solo due tipi di elefanti che abitano la terra, quelli africani e quelli asiatici. Gli elefanti asiatici sono più piccoli di quelli africani. In media un elefante asiatico raggiunge un'altezza di 3,5 metri e un peso di 5.500 kg. Gli elefanti della savana africana possono crescere in altezza fino a 4 metri e pesare fino a 8.000 kg.